Il prestigioso premio Eschilodoro 2021 è stato assegnato al professor Guido Paduano dalla Fondazione INDA, Istituto Nazionale Dramma Antico. L'evento si è svolto al Teatro Greco di Siracusa prima della replica delle Baccanti di Euripide. A consegnare il riconoscimento è stato Francesco Italia, presidente della Fondazione INDA, Marina Valenzise, consigliere delegato dell'INDA e Antonio Calvi, sovrintendente dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Paduano ha curato la traduzione dal greco proprio di Baccanti di Euripide, messa in scena quest'anno con la regia di Carlos Padrissa. L'emozione è molta, fa riferimento più che all'accademia accademica a una vita trascorsa attraverso due lavori che hanno a che fare, cioè con questo riconoscimento. Uno è il lavoro di traduttore e uno è quello di interprete. Due lavori, peraltro, che vanno presi come due fattispecie di un'unica operazione, verso testi di grande bellezza e verso, diciamo, la missione sociale di condividerli con un pubblico più vasto possibile, Baccanti è lo spettacolo straordinario, che pur puntando moltissimo, come è tradizione della Fura des Baus, sugli aspetti visivi, sul trattamento dello spazio e dei corpi, dal punto di vista del traduttore, offre la grande soddisfazione di curare moltissimo il rapporto con la parola e con la recitazione di tutti i bravissimi attori e in particolare la grande recitazione della protagonista Lucia Lari. L'eschilo d'oro è il riconoscimento assegnato dal 1960 dalla Fondazione Inda a personalità che si sono intenzionalmente distinte nel teatro classico e negli studi sulla classicità greca e latina. Guido Paduano è professore di filologia classica presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Pisa. Si è occupato di vari aspetti della letteratura e del teatro greco, tanto comico quanto tragico, per ricostruirne significato e ricezione, con una costante e spiccata attenzione per il contributo che le scienze umane contemporanee, in particolare la psicanalisi e l'estetica, possono recare nell'interpretazione della cultura antica. Traduttore d'eccellenza ha firmato la versione italiana di opere di Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane, Aristotele, Apollonio Rodio, Ovidio e Seneca, Paduano e anche direttore della rivista Dioniso.